buongiorno amici di tv1 e benvenuti a questa edizione della nostra rassegna stampa oggi è sabato 14 dicembre 2013 e partiamo subito con la lettura del centro picchiata da cinque banditi i titoli dunque avezzano incursione notturna in casa a caccia dell'oro mentre la fotonotizia riporta l'aquila prova a fare lo sgambetto alla vice capolista frosinone dunque de susa oggi guiderà l'attacco dell'aquila insieme al rientrante frediani e ciotola nell'anticipo della diciassettesima giornata che si gioca al fattori alle 14 e 30 i rosso blu cercheranno di fare lo sgambetto al vice alla vice capolista frosinone due punti sopra in classifica alla formazione di pagliari mentre dal nazionale forconi i colori della rivolta nella crisi italiana dunque un articolo incipit di un articolo che prosegue a pagina 14 e che si interroga appunto su quale sia effettivamente la necessità e la verità identitaria su questa rivolta che denominata appunto dei forconi mentre sull'aquila risarcimento milionario a 90 medici e nel piano case a bazzano ladri rubano le ruote delle automobili passiamo dunque subito alle notizie locali risarcimento da 5 milioni a 90 medici specializzanti dunque accolto il ricorso per ottenere gli arretrati dopo una battaglia legale durata sette anni assieme all'ateneo condannati a pagare i ministeri di salute economia e ricerca dunque poi si è conclusa con una condanna ai danni dello stato e dell'ateneo aquilano una controversia civile intentata da 90 medici specializzanti i quali chiedevano una retribuzione adeguata ai sensi delle direttive europee si tratta di un risarcimento di notevoli proporzioni visto che la somma complessiva sfiora i 5 milioni i 5 milioni i convenuti in questo giudizio erano in particolare l'amministrazione centrale dello stato il ministero dell'università e della ricerca il ministero della salute il ministero dell'economia e soprattutto l'ateneo dell'aquila la controversia civile che in giurisprudenza trova poche pronunce di tal genere riguarda medici specializzanti dopo il 1999 e cioè quelli per i quali è entrata in vigore la nuova disciplina europea con direttive degli anni 90 recepite nel nostro ordinamento per l'appunto nel 1999 la sentenza è stata depositata in questi giorni ma è il prodotto di udienze che furono avviate ben prima del ben prima il sisma del 2009 il tribunale dell'aquila dunque ha riconosciuto il diritto degli interessati al risarcimento del danno cagionato per il ritardato adempimento consistente nella perdita della chance di ottenere i benefici essenziali per consentire un percorso formativo scevro almeno in parte da preoccupazioni esistenziali resi possibili da una tempestiva attuazione delle direttive medesime mentre un fatto sicuramente molto più molto più dannoso e molto più immediato dunque ladri rubano le ruote delle auto furto nel garage del progetto case di bazzano tre colpi anche attorno in parte dunque carabinieri e polizia alle prese con raffiche di furti in tutto il circondario nel progetto case di bazzano due auto di grossa cilindrata una mercedes e un audi sono state trovate senza ruote e adagiate sui blocchetti va segnalato che alcune donne che fanno la pulizia avevano notato la presenza di quei blocchetti qualche giorno fa nascosti tra alcuni cespugli va ricordato che solo pochi giorni fa sempre in un garage di progetto case i ladri avevano succhiato benzina dai serbatoi delle auto dunque ladri anche attorno in parte i malviventi hanno preso di mira una villetta a piedi a piedi costa dove sono entrati da una finestra ma hanno potuto rubare poco visto che è scattato l'allarme la stessa villetta era stata derubata già quasi due anni fa l'altro ieri inoltre i ladri hanno provato a rubare in altre due case in un'altra trazione i torni in parte ma sono stati messi in fuga dai residenti mentre un dato allarmante dati il 2012 in abruzzo incidenti sul lavoro in calo ma in aumento quelli mortali nell'articolo diciamo si denota la tendenza del periodo recente diciamo a denunciare molto di meno quelli che sono gli incidenti sul lavoro dunque non che siano in calo ma effettivamente c'è appunto una reticenza da parte degli offesi a denunciare ovviamente per motivi lavorativi e per motivi di crisi e purtroppo aumentano i casi mortali perché appunto se non c'è una prevenzione si sfocia poi in casi limite che stanno diventando evidentemente molti e dunque molto allarmanti passiamo ora alla ricostruzione sicurezza bisogna demolire esperti a confronto nella sede ance martelli dice ciò che in parte sapevamo già da tempo non si può recuperare tutto vanno fatte delle scelte e dunque dice che il centro storico dell'Aquila e dei comuni colpiti dal sisma vanno ricostruiti in sicurezza mantenendo ciò che è antico e ha una valenza storico architettonica acclarata ma demolendo tutto ciò che è vecchio non si possono mettere pezze a edifici che non sono di pregio vanno abbattuti e ricostruiti di sicurezza nella ricostruzione si è discusso ieri nella sede del lance all'Aquila una tavola rotonda organizzata dall'associazione costruttori in collaborazione con glis gruppo lavoro isolamento sismico enea e assisi l'associazione internazionale di prevenzione sismica dunque è stato detto che ricostruire in modo sicuro è una priorità lo ha dichiarato martelli ma bisogna rivedere le regole il fatto che i finanziamenti per il miglioramento sismico coprano dal 60 all'80 per cento del totale dell'intervento disincentiva l'adozione di un adeguamento vero e proprio la misura per l'adeguamento sismico non è sufficiente a garantire i migliori livelli di sicurezza si rischia quindi di mettere solo delle toppe a strutture gravemente danneggiate che andrebbero demolite e ricostruite ex novo e ai sostenitori della tesi tutto come e dov'era martelli risponde il patrimonio edilizio dell'aquila come di altre città non è tutto come il colosseo apre l'urban center il progetto dunque si concretizza antonello antonella marrocchi di policentrica dice è uno strumento di partecipazione e proposta che riguarda il futuro della città dunque sembra finalmente concretizzarsi il progetto urban center un luogo dove ripensare e riprogettare la città giovedì comitato promosso dal comune si è riunito per la prima volta nel comitato c'è anche antonella marrocchi di policentrica l'associazione che ha spinto molto affinché si arrivasse a concretizzare il progetto lunedì policentrica alle 16 alla casa del volontariato appile ha organizzato un convegno per fare il punto e illustrare alcune delle proposte da discutere poi nell'ambito degli urban center un'altra notizia inerente alla ricostruzione in senso stretto dunque piani casi piani case difetti di costruzione confermato ci sono alloggi dove si consuma di più per il riscaldamento rispetto ad altre piastre dunque su 4.400 bollette messe gli errori di tipo fisiologico cioè riferiti a letture sbagliate o a malfunzionamento dei contatori si attestano sulla percentuale del 5% e si tratta di casi facilmente risolvibili il vero problema emerso in tutta la sua gravità durante la riunione della commissione di garanzia e controllo riguarda l'enorme differenza di consumi registrati pensate tra una piastra e l'altra in pratica tra i 19 insediamenti del progetto case sorti dopo il sisma sembra contare molto la qualità della costruzione il fatto che le ditte abbiano rispettato meno il parametro del risparmio energetico le case realizzate in classe a consumano molto meno sul fronte del riscaldamento si passa dai circa 30.000 metri cubi di gas conteggiati in alcuni agglomerati ai 70.000 di altri dunque più del doppio un esempio su tutti una famiglia che ha ricevuto una bolletta di 3.500 euro ne avrebbe pagati 1.800 vivendo in un appartamento della stessa superficie e dello stesso piano ma ubicato in un'altra piastra dunque una situazione anomala ha spiegato il presidente della commissione raffaele daniele evidenziata dai comitati cittadini e suffragata da dati e documenti se tutte le case fossero state costruite in classe a ci sarebbe stato un risparmio di 1,8 milioni per questo ho avanzato una proposta visto che le ditte costruttrice hanno stipulato delle polizze di garanzia di 10 anni si dovrebbe valutare la possibilità una volta verificato il non rispetto dei requisiti di rivalersi per le maggiorazioni direttamente sui costruttori inoltre è emerso che i pannelli solari installati sui tetti pensate non funzionano l'assessore leglio de santis ha dimostrato grande disponibilità per affrontare le problematiche ma intanto i cittadini devono pagare almeno la prima rata dato che il comune ha 10 milioni di debiti con l'enel gas il terremoto dell'aquila sarà nel prossimo calendario dei carabinieri mentre ha scoppito esenzioni tares decise in consiglio comunale dunque il consiglio comunale di scoppito ha approvato il bilancio 2013 il sindaco marco giusti esprime soddisfazione per il lavoro svolto dall'amministrazione e dagli uffici in un contesto normativo estremamente difficile lavoro che ha permesso di mantenere inalterate le aliquote imu per la rata di dicembre da evitare l'introduzione dell'addizionale irpef e di cancellare la tassa per il trasporto scolastico il consiglio ha inoltre introdotto una serie di esenzioni sull'imposta tares per le coppie di giovani spose per le persone svantaggiate per le associazioni culturali e sportive per le nuove attività commerciali mentre ieri sera è stato acceso in piazza duomo l'albero di natale e sempre una notizia molto diciamo meno simpatica il polo scolastico a sassa spuntano in toppi per avviare il progetto dunque i soldi sembrano essere pronti ma la strada per la realizzazione è lunga la discussione dell'argomento si è accesa ieri sera durante l'assemblea cittadina all'interno del musp della scuola primaria della frazione la commissione oltre il musp composta da docenti di sassa infatti ha invitato i rappresentanti di comune e provincia a fare chiarezza sulla situazione il nostro sogno ha detto lucia tucci maestre la scuola primaria di sassa è una struttura in muratura che possa ospitare i vari ordini di scuola a cinque anni dal sisma infatti questi moduli hanno parecchi problemi sul territorio ci sono due musp quello di sassa ospita la media e le ultime due classi della primaria mentre quello di pagliare la scuola dell'infanzia e le altre classi della primaria soprattutto quest'ultimo ha diversi problemi legati al riscaldamento alle perdite di acqua e alla mancanza di una palestra spiega l'insegnante è per questo motivo che da diverso tempo chiediamo la costruzione di un vero e proprio polo scolastico il comitato avrebbe anche individuato l'area per la realizzazione del plesso e realizzato un progetto di massima un piano di lavoro che sembra piacere al comune siamo disposti a sostenerlo ha detto ieri l'assessore lavori pubblici alfredo moroni che anche assicurato che per la covertura economica per il 2014 sono disponibili 19 milioni per le scuole di cui 8 potrebbero essere utilizzati per questo progetto restano comunque da risolvere due problemi non di poco conto la disponibilità del terreno e il mancato accordo della comunità locale sulla questione il terreno individuato infatti come ha spiegato l'assessore guido quintino liris è di proprietà dell'istituto agrario che ancora non effettua il passaggio nei confronti dell'ente che rappresento ma le difficoltà secondo liris potrebbero anche essere altre da quello che sappiamo il terreno è in zona alluvionale e non capiamo il motivo per cui le scuole non potrebbero occupare eventualmente la zona dell'ex sercom che è già antropizzata e servita domani dunque donati giocattoli alla clinica pediatrica dunque all'aquila un atto di generosità da parte di un imprenditore fiorentino Enzo Carini per rendere meno pesante la permanenza dei piccoli pazienti dell'ospedale san salvatore dunque oggi alle 11 scusate ci sarà la cerimonia di donazione a beneficio della clinica pediatrica dell'ospedale aquilano diretta dal professor giovanni nigro di materiale ludico tra cui numerosi giocattoli e libri a scopo didattico per i piccoli ospiti dunque con l'avvicinarsi del natale ci sono anche notizie positive premiati atleti e dirigenti alla festa dello sport dunque organizzata dal coni la festa dello sport ha incoronato un 2013 ricco di soddisfazioni per l'aquila il delegato il delegato provinciale coni l'aquila luciano per razza promotore dell'evento oltre a risultati ottenuti dagli atleti del nostro territorio nelle diverse discipline si è rallegrato per le numerose adessioni di autorità e società sportive alla festa di venuto ormai un appuntamento fisso il 2013 ha esordito è stato un anno abbastanza soddisfacente i nostri atleti hanno infatti portato a casa titoli sia a livello scolastico che a livello di federazione e società in attesa del ripristino delle strutture aggiunto in casa coni si pensa di modificare lo statuto per ritornare ad avere un maggiore contatto con il territorio assieme diciamo ai premi agonistici non sono mancati riconoscimenti speciali alla carriera nell'evento presenziato dal presidente coni regionali enzo imbastaro passiamo ora alla cronaca di avezzano anche qui la prima pagina riguarda un evento sicuramente molto lieto per la nostra regione dunque un nuovo macchinario per eliminare la miopia inaugurato il femtolaser dal prossimo anno consentirà il trapianto di cornea di bastiano i rischi di rigetto saranno ridotti dal 50 al 30 per cento dunque le nuove frontiere per curare la vista l'utilizzo di questo sofisticato femto laser oltre a permettere il trattamento di miopia ipermetropia e astigmatismo con una tecnologia che consente di irradiare migliaia di impulsi e di gestirli adeguatamente sulla base del caso specifico da trattare ha permesso anche l'avvio di una fase di sperimentazione di chirurgia refrattiva riguarda riguardante la presbiopia la difficoltà di mettere a fuoco da vicino legata all'età destinata ad aprire nuovi orizzonti in questo tipo di trattamento e dal prossimo anno consentirà anche i trapianti di cornea mentre a tagliacozzo l'ospedale umberto primo pare non essere in regola e dunque relazione del commissario esposto in procura sulla reperibilità un fatto di cronaca nera sempre su avezzano dunque ad 80 anni picchiata in casa da cinque balordi assalto nella notte nella frazione di castelnuovo l'anziana medicata in ospedale i rapinatori hanno tentato di strappare l'anello e quando hanno visto che non potevano trarre dal furto una cospicua somma di denaro diciamo hanno battuto in ritirata non senza un grande shock da parte dell'anziana signora vittima di questa rapina e ovviamente non senza anche dei danni sia psicologici che fisici mentre a paterno tre denunce per rissa un 46 anni 46 anni è stato preso abbastonate dunque discutono per questioni di denaro e scoppio una rissa una persona finisce in ospedale e scattano tre denunce per lesioni aggravate e danneggiamento un'altra notizia positiva nuovi confini del parco 80.000 no petizione online per impedire la caccia ed evitare speculazioni edilizie sul sirente velino dunque la marsica e l'abruzzo dicono no alla riperimetrazione del parco sirente velino scattato una petizione virtuale che in pochi giorni ha già raggiunto la quota delle 80.000 firme la decisione del consiglio regionale di rinviare a martedì la votazione sui nuovi confini dell'area protetta alla luce anche delle numerose proteste degli ultimi giorni ha fatto guadagnare terreno scusate ha fatto guadagnare terreno agli ambientalisti e agli amministratori dei comuni ricadenti nel parco che si sono organizzati hanno lanciato una petizione contro la proposta di legge presentata al consigliere di centrodestra luca ricciuti dunque in poco tempo sono riusciti a sensibilizzare già 80.000 persone che cresceranno sicuramente nelle prossime ore con un blitz dell'ultimo minuto tra pochi giorni potrebbero demolire il parco regionale sirente velino in abruzzo dove vivono specie protette come l'orso marzicano è la motivazione che accompagna la petizione sul web il consigliere ricciuti ha proposto di eliminare oltre 4.000 ettari di fascia protetta al ridosso dei comuni di rocca di mezzo e rocca di cambio per creare una zona di caccia e per consentire alcuni progetti immobiliari ciò implicherebbe che questo territorio destinato alle specie protette non tra le quali l'orso marzicano e il lupo finirebbe nelle mani di cacciatori e costruttori non permettiamo questo scempio per dire no alla riperimetrazione del parco basta andare sul sito avaz.org petizioni della comunità e firmare dure critiche contro l'iniziativa regionale erano arrivate nei giorni scorsi anche da simone angelo sante presidente dell'area protetta dal WWF e dal CAI di Avezzano. Per gli ambientalisti questo atto cancellerebbe un pezzo della storia del parco e deturperebbe dunque l'area. Mentre stasera alle 21 ad Avezzano al Teatro dei Marzi lo spettacolo di musica e danza dentro e fuori noi clandestini della società si tratta di uno spettacolo con giovani detenuti mentre D'Amico dice sulla legge per tutelare i castagneti approvata in regione bene per l'economia. C'è stato intanto tra martedì e mercoledì notte un atto di bracconaggio dunque denunciato il cacciatore e passiamo alla cronaca di Sulmona. Il Teatro Caniglia torna alla città con il Rigoletto. Mentre patto tra comuni per potenziare il turismo sui monti si tratta dunque di un patto tra i comuni di Pescasseroli, Roccaraso e Dovindoli mentre da oggi in Pianti Aperti e a Scanno si torna dunque a sciare. Passiamo ora molto velocemente al messaggero Abruzzo. Dunque Noemi, Brescia, Tace, nessuna telefonata dall'ospedale che dovrebbe curare la bimba di Guardia Grele, il padre intervenga il giudice. Chiodi premiamo sulla struttura lombarda. Dunque dall'ospedale di Brescia la telefonata tanto attesa non arriva per Noemi, la bimba di Guardia Grele che dovrà essere curata con il metodo stamina. Brescia non chiama l'avvocato che ha telefonato alla struttura ma nessuno ha voluto passargli il direttore generale. Se andrà così chiederemo ai giudici di autorizzare l'ospedale di Pescara, dice Andrea Sciarretta, il padre di Noemi, pronto a rivolgersi nuovamente ai giudici per far sì che la figlioletta di 18 mesi affetta da atrofia muscolare spinale sia curata con stamina come disposto dai giudici dell'Aquila. Faremo pressioni affinché gli ospedali riuniti di Brescia eroghino le cure, annuncia il governatore Gianni Chiodi. Sono già autorizzati dalla Regione Abruzzo in virtù di una convenzione stipulata con la Fondazione Stamina e accettata dall'Agenzia Sanitaria Nazionale. Dunque sull'Aquila, sempre sul tema della ricostruzione, 2 miliardi pronti ma bloccati. Anche qui viene riportata la notizia dell'Inail. Dunque i vari dati, nonostante sia migliorata la prevenzione, in un anno 25 persone hanno perso la vita. Mentre l'apertura dell'Urban Center già trattato sul centro, il concorzone mobilità, l'Iris che dice subito un incontro e appunto la notizia degli interventi agli occhi e del nuovo macchinario che sarà disponibile all'ospedale di Avezzano. Passiamo al messaggero nazionale molto rapidamente. Soldi ai partiti, stop in tre anni. Dunque varato dal governo il decreto che abolisce gradualmente il finanziamento entro il 2017. Letta dice ora decidono i cittadini. Grillo invece si oppone e dice colossale presa in giro. No di Forza Italia che dice è contro Berlusconi. Sempre su Berlusconi, il Cavaliere torna e rincara. PM e PD mi vogliono morto, leggerò in galera il libro su Craxi. Dunque Silvio Berlusconi all'attacco, giudice PM sono d'accordo per uccidermi mandandomi in carcere, leggerò in galera il libro su Craxi, intanto Cuperlo accetta la presidenza del Partito Democratico. Dunque auguriamo una buona lettura a Silvio Berlusconi. Mentre Forconi in arrivo la protesta a Roma, dunque Natale la protesta rallenta la consegna delle merci e iniziano appunto a sentirsi gli effetti anche sulla capitale. Mentre arriva la Google Tax, sconti sulla RC Auto e tagli alle bollette. Primo sia un emendamento alla legge di stabilità che introduce la cosiddetta Google Tax, i colossi del web dovranno pagare l'IVA. Intanto nel primo consiglio dei ministri, dopo il voto di fiducia, viene varato il provvedimento destinazione Italia. Sono previsti sconti sulla RC Auto e tagli alle bollette, oltre ad agevolazioni sul credito e detrazioni sui libri. Passiamo rapidamente al Corriere della Sera. Dunque basta fondi pubblici ai partiti, letta promessa mantenuta, ora decidono i cittadini. La vignetta di Giannelli di oggi molto rapidamente riporta, illustra un marito e una moglie presumibilmente a tavola. Il marito legge il giornale e chiede senza finanziamenti cosa faranno i partiti e la moglie gli risponde si aiuteranno con il gratta e vinci. Dunque il governo ha abolito i fondi pubblici per i partiti e il premier Letta dice abbiamo mantenuto la promessa, ora saranno i cittadini a decidere, il taglio sarà totale dal 2017, possibili finanziamenti solo con la formula del 2 per 1000. Mentre a Grillo evidentemente le modalità della riforma non piacciono e dice sono chiacchiere. Mentre la fotonotizia molto bella, i passi della Bibbia, le sorprese della natura e riporta una foto appunto che ha soggetto il muro del pianto diciamo ricoperto di neve con un pellegrino appunto che è appoggiato ed è ricoperto di neve. Mentre il premier anticipa le mosse di Renzi, competition is competition, Renzi aveva preannunciato per domani una sorpresina a Grillo sul taglio dei soldi alle forze politiche, ieri Letta ha fatto una sorpresina a Renzi anticipando il varo del decreto sull'abolizione del finanziamento pubblico e partiti. È l'omaggio del premier alla vigilia dell'Assemblea nazionale che incoronerà il vincitore delle primarie PD a segretario. Cambiano i protagonisti della storia ma appunto la storia si ripete. Bene amici di TV1 per oggi è tutto, vi ricordo l'appuntamento con il notiziario delle 13.45 e vi auguro una buona giornata ed un buon weekend. Ciao! Ciao!